Nelle ultime settimane, negli ultimi mesi si è parlato molto anche del problema delle date del mercato. Voi cos'è che ne pensate? Quali sono i vantaggi che si potrebbero trarre dalla riduzione del periodo di mercato? Effettivamente abbiamo un calcio a mercato che dura troppo secondo me. Ciò permette soprattutto magari in alcune situazioni di avere formazioni che partono nel ritiro con le rose assolutamente non formate e non ancora competitive e comunque non in linea con quelle che saranno poi le rose che affronteranno il campionato. Andrebbe rivisto un attimo il sistema, andrebbe rivisto anche a livello internazionale. So ad esempio che in Argentina stanno modificando i campionati proprio per avvicinarsi più a quelli europei. Visto un mercato che ormai non è più italiano, non è più europeo ma è mondiale, andrebbe forse fatta effettivamente una riforma globale proprio per facilitare questo tipo di passaggio di calciatori nei periodi che siano uguali per tutti. magari però riducendoli e concentrandoli in modo da poter lavorare effettivamente anche meglio ed evitare trattative che alle volte anche volutamente proprio perché il tempo lo consente diventano effettivamente troppo lunghe. Io sono proprio per accorciare le date perché è fuorviante per le società, per noi, per i calciatori. Si parte con una rosa, si arriva con un'altra rosa e gli allenatori non hanno la possibilità di lavorare sempre con gli stessi. Basterebbe un po' ritornare al passato quando c'erano solo i dieci giorni estivi e i dieci giorni invernali. Io sono proprio per tagliare drasticamente i 60 giorni estivi che è uno stilicidio per tutti ma ripeto non per lamentarmi del lavoro. A me piace questo lavoro, lo farei anche 24 ore al giorno, anzi ormai si fa 24 ore al giorno però la data del mercato non vedo a chi giova. Un largo lardo domanda anche a Giovanni Branchini con un'aggiunta. Qualche direttore sportivo dice anche il mercato di gennaio. Si potrebbe anticipare soprattutto per le squadre più piccole perché c'è il rischio che arrivino dei giocatori a gennaio e non c'è neanche il tempo di farli ambientare. Quindi è giusto questa considerazione. Sì, sì, è assolutamente una razio giustissima. Io credo che chiunque dovesse essere a favore del mercato come è strutturato oggi non ha a cuore il calcio. Lo dico chiaramente perché nessuno può pensare che Reiki Giovamento ha una componente del calcio. È deleterio anche perché poi noi viviamo su delle bugie perché diciamo dura tre mesi. Non è vero perché il campionato finisce a maggio, finisce a giugno, c'è tutto giugno, tutto luglio, tutto agosto e tutto settembre. È una cosa assurda. Per poi dover vedere le scene delle corse all'ultimo minuto o dei giocatori che all'ultimo minuto non possono essere tesserati. È capitato alla società italiana assolutamente più strutturata, diciamo la migliore per usare un termine lato. Ma la Juventus non ha potuto tesserare un calciatore l'ultimo giorno. Io sono sicuro che se il mercato fosse finito al 15 di luglio quel giocatore o un altro al posto di quel giocatore sarebbe stato tesserato. E io mi aggiungo una cosa. Cosa impedisce di dare a tutte le società un jolly da poter usare nell'arco dell'anno in presenza di un grave infortunio o di un problema personale? Su un jolly non fai speculazione, se già fossero due qualcuno speculerebbe, ma su uno se succede qualcosa tu fino alla data del 31 marzo o del 15 di aprile puoi intervenire e puoi fare un'operazione di mercato. L'ultima cosa, i fondi rappresentano una minaccia per il vostro modo di lavorare, rappresentano anche una risorsa? Non lo so, c'è qualcosa che possono dare o possono togliere anche alla vostra professione? Diciamo che ci sono sia degli aspetti positivi che degli aspetti negativi. Ovviamente possono avere una capacità di influenzare il mercato e per cui possono avere da questo punto di vista degli aspetti negativi. Dall'altra parte ricordiamoci anche però che sono una capacità di immissione, di risorse economiche che per alcuni campionati, soprattutto sudamericani, sono veramente fondamentali per la sopravvivenza dei club stessi, ma non solo sudamericani, anche europei. Come sempre starebbe nel buon senso delle cose e qualche regola magari chiara senza andare alla ricerca di chissà che cosa, trovare il giusto equilibrio per poter usufruire anche di questa opportunità. Ma io sono per i fondi se fossero tracciati tutti i nominativi di chi fa parte del fondo. Quando, e li vedrei di buon occhio, come è successo per tanti club sudamericani e per qualche club europeo, se i fondi sono di dubbia provenienza sono in disaccorto. Anche lì, come diceva Giovanni, basta approfondire tutte le conoscenze che si hanno e non vedo per chi andare contro a chi mette soldi in un circuito dove c'è bisogno sempre di più denaro per essere competitivi. Penso che con il TPO si sia fatto un po' lo stesso errore della deregulation degli agenti, cioè si è buttato via il bambino con l'acqua sporca. Io credo che gli organi competenti debbano fare la fatica di studiare i fenomeni e di regolamentarli per poi controllarli. Non c'è niente che è completamente giusto o completamente sbagliato. Si tratta di studiare i fenomeni e regolamentarli e limitare gli effetti negativi e esaltare quelli positivi. E' molto facile per chi vive magari in Inghilterra, in Germania o è tifoso della Juve dire che i fondi non sono una cosa lecita o una cosa giusta o una cosa pulita, ma per chi è tifoso del Benfica o del Porto che ha degli introiti normali televisivi che sono un ventesimo, un cinquantesimo di quelli di altri paesi, è l'unico modo per poter avere un minimo di competitività economica. Poi è chiaro che se questo nasconde altri aspetti, altri fattori, è lì che chi ha il dovere di farlo deve investigare e limitare il malaffare ove ci fosse malaffare, ma in sé per sé il principio non è un principio totalmente sbagliato.